Sabine è lì che aspetta. Si accendono i fare di sala, accecano noi e nascondono il pubblico. C'è il silenzio delle grandi attese, un'emozione da codice arancione. Partiamo? Pronti? Vai! Lo spezzettamento terriero purtroppo è un problema enorme perché uno non riesce a mettersi un'azienda agricola perché non trova ad affittare terreni. Regione Piemonte ha fatto recentemente una legge che è quella dell'associazione fondiaria quindi c'è anche un'attenzione. Certo la macchina regionale è lenta e probabilmente in questo momento non riesce tanto a leggere queste nuove esigenze dei territori, però lì l'ha fatto. Chi sale è il nuovo montanaro. Chi ha scelto di abitare le terre alte e il salire è già azione ribelle di per sé perché sovverte le leggi della fisica. Chi sfida la gravità va sempre in direzione contraria. Secondo me i montanari di domani sono quelli lì. Non perché siano di città, possono essere benissimo montanari nati in montagna, ma gente che sceglie di stare in montagna. Grazie. 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 Grazie.